oh via finalmente dopo la segregazione in galera si ritorna sul prato magno vediamo se trovi il verso di cascare davvero certo qui tu potresti essere anche al polo nord giornatina ideale sul prato magno c'è un sole ragazzi uno spettacolo madonna che rischiare mi sembra di scadi costa eh se non facci male nulla sta uscendo da qui dentro comunque bello paesaggio paesaggio da favola oh sapere meraviglioso mai visto così che spettacolo madonna eccezionale madonna guardi guarderai non c'è più qui guardi guarderai guardi guarderai guardi guarderai guardi guarderai guardi guarderai guardi guarderai guarderai sembra ad essere in una fiaba oh buongiorno vai vai stefan io guardo ma di scala eccolo scusa abbi pazienza abbi pazienza no girati dai ciao ragazzi buon proseguimento ciao 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 ciao